A cura del Dipartimento Scuola di Blog ed Educazione, siamo a presentarvi la Scuola di Blog Awards, l'evento dell'anno della Scuola di Blog che si trarà il 30 settembre, l'1 e il 2 ottobre, al Centro Congressi di Parma. Buongiorno a tutti, sono il geometra Alfieri, aliasi il preside della Scuola di Blog. La Scuola di Blog è il primo percorso di e-learning, il primo master online sul Social Media Marketing. È un corso che è iniziato il 6 di maggio 2011, attraverso un processo di selezione online abbiamo selezionato 33 studenti da tutta Italia. Quando parliamo di studenti parliamo a livello di Scuola di Blog, ma sono a tutti gli effetti dei professionisti esperti di web. Abbiamo quindi iniziato insieme a questa classe, a questa aula, un percorso formativo attraverso una piattaforma di e-learning, attraverso dei seminari settimanali che si tenevano a lunedì, sera. Siamo arrivati ora, dopo quasi cinque mesi insieme, al momento cruciale in cui possiamo finalmente presentare alle aziende, innanzitutto, questi nuovi professionisti social media che stiamo formando. Quindi andiamo a vedere velocemente all'evento. L'evento inizierà il 30 settembre. Inizieremo con un momento ludico di conoscenza, anche perché dobbiamo tenere presente che la maggior parte di questi studenti non si sono mai incontrati in persona. Abbiamo infatti utilizzato in questi mesi piattaforme di condivisione più che altro online. Ciò non significa che non si sia creata una vera e propria aula, una vera e propria classe, attraverso strumenti come Facebook, Twitter, Foursquare, LinkedIn stesso. Quindi la prima cosa che chiediamo è un momento soltanto per i nostri studenti. studenti e docenti che si incontrano in un momento di check-in, appunto, in cui ci sarà un'accoglienza, una registrazione, la consegna del programma e l'assegnazione dei lavori. Alle ore 13 ci sarà un buffet velocissimo, con panini e torte della mamma del preside. Alle 14 inizieremo con la prima lezione in presenza fisica, frontale, quindi docenza frontale. Il tema sarà il cliente mobile, la multicanalità e il mobile marketing. È un argomento scottante che sta emergendo prepotentemente in Italia, soprattutto. Sarà il geometra e il fiere, appunto, a tenere questa docenza e potrà essere aperta anche ad esterni, a patto che siano invitati da docenti o alunni. Dopo una rapida pausa inizieremo alle 17 la preparazione del workshop sui progetti di classe. La scuola di Bloc si è, diciamo, ha deciso di puntare a un percorso formativo che unisca il conoscere con il saper fare. Forse per la prima volta gli studenti, dopo tanta teoria, nel mese di settembre dovranno misurarsi su progetti concreti. La classe è stata divisa in cinque gruppi. Ogni gruppo lavorerà e presenterà, nella giornata di sabato, come vedremo, dei veri e propri pitch aziendali. Cioè abbiamo identificato cinque clienti con dei requisiti ben specifici. Abbiamo assegnato ai gruppi capi progetti, tutor e ovviamente dei referenti del cliente. E gli studenti avranno poco meno di un mese per presentarsi al giorno 1 ottobre, davanti a una platea e davanti al cliente, offrendo la propria offerta consulenziale. In preparazione di questo evento, quindi di questo momento importantissimo per i nostri studenti del sabato mattina, alle 17 creeremo un momento di aggregazione per i gruppi separati. E' quindi una preparazione del workshop sui progetti di classe. Abbiamo previsto di avere gli studenti e i docenti LEN affiancati da professionisti ospiti invitati. Stiamo organizzando e contattando blogger e specialisti di social media che possono sedersi con gli studenti e aiutarli a finalizzare i dettagli della presentazione del giorno dopo. Alle 20 una visita notturna alla Casa del Suono, qui a Palma, che sarà un momento aggregativo e ludico. Infine una seduta di lavori notturna che è assolutamente prevista. Passando al sabato, alle 9 prevediamo l'inizio dei lavori, con un saluto di benvenuto del presidente di LEN, un saluto di benvenuto del presidente di LEN System e del presidente dell'associazione culturale Scuola di Blog. Alle 9.15 avremo una presentazione di edotto. Il gruppo LEN sta puntando moltissimo, già da qualche anno, sulla formazione a distanza, su piattaforme di e-learning, su modalità di e-learning. Quindi il nostro responsabile tecnico e il nostro responsabile organizzativo e commerciale faranno una presentazione di quelli che sono i piani futuri e ovviamente presenti, inclusi la Scuola di Blog. Alle ore 10 ci sarà un saluto di benvenuto ai 32 blogger provenienti da tutta Italia, che sono gli allievi del Master FAD, la Scuola di Blog, la prima classe. Alle 10.15 inizierà il momento cruciale per gli studenti. Gli studenti della Scuola di Blog in fratti inizieranno a presentare i project work alla platea e ai propri clienti. La presentazione durerà in circa due ore, per i cinque gruppi, intervallata da un coffee break. Alle ore 12 abbiamo previsto la presentazione e consegna dell'applicazione dello smartphone, da smartphone, della Scuola di Blog. Il direttore tecnico di e-project, Alessio Garbi, ha disegnato e strutturato una applicazione nuova che presenterà e consegnerà agli studenti, appunto, alle 12. Alle 12.30 la presentazione in anteprima della seconda edizione del Master in Social Media Marketing nella Scuola di Blog. Ci saranno dei cambiamenti, quindi sarà un momento molto interessante anche di condivisione sia con gli studenti della prima classe che con le aziende interessate. Inoltre sarà il momento in cui lanceremo e apriremo ufficialmente le candidature, il processo di iscrizione per la prossima edizione della Scuola di Blog. Infine, alle 13.00 la presentazione del portale e-commerce di edotto.it. Nel pomeriggio, dopo una pausa a pranzo, alle 15.00 riprenderemo con un Social Media Marketing Workshop tematico, definito Blogger vs Manager. È un momento in cui abbiamo deciso di mettere a sedere intorno a un tavolo, in fronte a tutti, sei manager aziendali di alto livello che si confrontino con i docenti e gli studenti della Scuola di Blog per verificare le loro esperienze, le eventuali opportunità, i rischi, le criticità di un'azienda che cerca di evolversi, di trasformarsi in un approccio 2.0, se non 3.0, con relative complicazioni, e dall'altra parte di professionisti che cercano di inserirsi all'interno di questo nuovo mercato del lavoro. Dopo un momento di domande e interattività con il pubblico, i lavori si chiuderanno alle 18.30. Per gli studenti, la giornata della mattina e della domenica sarà comunque un momento di aggregazione. I lavori inizieranno alle 10.00, con la consegna degli attestati, gli awards, e infine la consegna delle magliette della classe. Alle 10.30 abbiamo previsto una stress interview di classe, che è un momento di intervista in cui ogni studente avrà 120 secondi per presentarsi e 60 secondi per dire qualcosa di intelligente. Ogni studente e ogni interview verrà firmata con liberatoria. Alle 13.00 fine dei lavori e offerti dal Comune di Parma, l'ingresso e omaggio agli studenti alla Galleria Nazionale e al Teatro Farnese di Parma. Inoltre avremo una proposta di classe da gestire, compatibilmente con la disponibilità di tutti gli alunni, e vorremmo fare la pizzata di classe. Un'ultima cosa, ci sembra giusto specificare che cosa vogliamo ottenere con questo evento. La scuola di blog è il primo percorso formativo consulenziale. È un percorso quindi che cerca di unire alla formazione, al pezzo di carta, delle reali sfide e opportunità lavorative. Quindi per noi organizzatori della scuola di blog è molto importante coinvolgere le aziende e metterle al tavolo con gli studenti. Noi non stiamo facendo troppa pubblicità perché è un percorso nuovo, è un progetto pilota ed è soprattutto molto difficile raccontare quello che sta succedendo in aula alle aziende. Forse l'unico momento in cui possiamo veramente promuovere ciò che abbiamo fatto fino ad oggi è il momento in cui possiamo far valutare alle aziende gli studenti che stanno lavorando sul nostro percorso formativo. Quindi vorremmo dar modo anche alle aziende di presentare casi, di fare domande, di imparare facendo non soltanto ascoltando. Dar modo agli studenti di farsi valutare da professionisti aziende. Far nascere collaborazioni, opportunità concrete e possibili consulenze attraverso la creazione ovviamente di un network. Coinvolgere aziende nella seconda edizione della scuola di blog. Edizione che sverterà molto sulle reali esigenze di aziende collegate alla scuola di blog che potranno quindi presentare i loro casi concreti e fare in modo che 40 blogger ci lavorino, offrino soluzioni ed eventualmente selezionare i migliori per poi inserirli nell'organico aziendale. Quindi è molto importante la parte di project work, esercitazioni pratiche che abbinano studenti e responsabili di aziende. Alla fine vogliamo creare eventuali partnership e collaborazioni utili sia con aziende che con web agencies, con grossi professionisti di social media. E alla fine, per ultimo concludendo, è pur sempre la gita di classe quindi vogliamo divertirci anche. Questo è tutto, se avete altre informazioni mi invito a consultare il nostro blog o a contattare info-scuoladiblog.it Grazie a tutti dal Geometro Alfieri Grazie a tutti dal Geometro Alfieri